amici di atti sport 24 benvenuti nuova puntata di due metri la palla noto vista da vicino e abbiamo il grande piacere di occuparci oggi di schiamare in club e per farlo ho l'onore di ospitare una persona per bene un gran bravo ragazzo e un amico Dario D'Antonio ciao Dario benvenuto è davvero credimi un gran piacere averti in compagnia ciao Andrea grazie per avermi invitato finalmente ce l'abbiamo fatta a fare quest'unione ci siamo riusciti vediamo cosa ne esce fuori Dario iniziamo a chiacchierare partendo dall'ultimo impegno dell'ischia come avete archiviato il sofferto successo in rimonta contro la San Mauro Noto allora innanzitutto si devono fare i complimenti comunque agli avversari perché hanno disputato un'ottima partita ci hanno studiato bene ci hanno messo in difficoltà e certo abbiamo avuto un inizio non non felice cioè siamo stati disattenti abbiamo sbagliato molto in attacco però questo ci fa capire che è un campionato difficile un campionato lungo e che non si possono sottovalutare non si devono sottovalutare anche le altre squadre fortunatamente l'esperienza giocava dalla nostra e quindi ci siamo tranquillizzati abbiamo focalizzato qual era l'obiettivo e abbiamo iniziato pian piano a macinare il nostro gioco e poi fortunatamente abbiamo abbiamo portato a casa il successo e l'ho detto tu l'inizio non è stato dei migliori troppi errori in attacco gli avversari che avevano preparato a dovere la partita e prima 3 a 0 poi 5 a 3 al sedicesimo minuto come spieghi questo approccio che non voglio definire brutto ma magari definisco non da ischia allora diciamo che il campo non era dei migliori nel senso gli spazi sono più stretti con quel san mauro sono soprattutto ragazzi giovani ragazzi che nuotano e che quindi dalla loro avevano anche il fatto che non avevano nulla da perdere che poi ovviamente per pronostici ci davano per i favoriti e quindi già l'approccio forse non è stata dei migliori non disattenti e nemmeno casamai non è che abbiamo sottovalutato però non siamo entrati come il nostro solito attenti e forti e poi ovviamente ci siamo resi conto che non potevamo fare questa figura non potevamo lasciarci andare così e ci siamo tranquillizzati anche tramite l'aiuto di Paolo che ci ha dato le disposizioni per poter disputare al meglio poi l'incontro durante le fasi di gioco e quindi abbiamo macinato il nostro gioco e quindi abbiamo potuto fare quello che stavamo fare meglio e l'hai detto tu ci ha aiutato il mister e penso che la chiave sia stata anche la pausa di metà partita che cosa vi ha detto mister Iacovelli durante quei tre minuti di interruzione ovviamente tutto ciò che è lecito dire tutto ciò che è troppo forte lo lasciamo nel segreto segreto professionale no no fortunatamente è stato tranquillo cioè ci ha riportato un attimo in campo ci ha tranquillizzato che era forse la cosa migliore in quel momento perché troppo nervosismo per le troppe occasioni sciupate qualche chiamata di troppo sbagliata stiamo perdendo un po che il filo del gioco fortunatamente ci ha tranquillizzato ci ha ci ha trasmesso la giusta carica per poter rientrare negli ultimi due tempi con la giusta cattiveria agonistica e la giusta determinazione avvertite nello spogliatoio la pressione del pronostico cioè vi sentite i favoriti più forti dell'otto oppure per voi è una storia che va scritta partita per partita perché comunque mai come in questo in questa edizione il girone 3 è davvero una piccola serie a due no allora innanzitutto sono d'accordo sul fatto che il campionato del girone 3 quest'anno è un girone equilibratissimo infatti si vede dai risultati le partite comunque si risolvono sempre all'ultimo quarto comunque sono sempre molto tirate e noi ovviamente abbiamo un obiettivo da raggiungere però non deve essere poi un alibi per poter fallire diciamo le partite o per lasciare andare poi lasciarsi andare poi troppo alla parte emotiva affrontiamo le partite come se fossero sempre una finale perché così deve essere questo campionato non si può trascurare né tanto meno non si possono sottovalutare gli avversari semplicemente perché sulla carta abbiamo dei nomi che comunque sono dei nomi cioè per una serie b dei nomi altissima valore di altissimo valore e noi con tutta l'umiltà che possiamo giochiamo come se stessimo giocando sempre contro la più forte del contro la più forte del campionato perché non sono partite con che comunque si si possono risolvere sempre all'ultimo momento i derby sono difficili le squadre che sono casomai meno attrezzate ma perché per esperienza comunque possono mettere in difficoltà e si è visto il San Mauro ha messo in difficoltà comunque non possiamo farci non possiamo essere trascinati appunto dal fatto che siamo la la favorita sulla carta assolutamente è detto un girone equilibratissimo sabato alla scandone c'è un big match arriva il pescara pallannuoto formazione che pure vuole dire la sua nella lotta per la conquista di una delle prime due posizioni e che in rosa due piccoli mostriciattoli due extra lusso per questa categoria ovvero Stefano Morretti in porta e Carlo Di Fulven attacco che partita ci possiamo aspettare ma secondo me sarà una bella partita combattuta ovviamente hanno dei nomi anche loro di altissimo livello per una serie B e per di più una squadra sempre super preparata natatoriamente atleticamente e affronta sempre le partite con la giusta cattiveria quindi sarà una partita secondo me bella da vedere molto molto fisica e che si risolverà probabilmente all'ultimo quarto tramite qualche diciamo invenzione degli uomini di spicco e secondo me ci sarà da divertirsi. Chiudiamo con un'ultima battuta quali fattori saranno decisivi per provare a portare a casa una vittoria che potrebbe valere oro per ciascuna delle due sia per voi che per gli abruzzesi? Ma secondo me la freddezza che arriva al quarto tempo con la giusta freddezza con la giusta determinazione potrà portare a casa il risultato. Va bene siamo così giunti al termine della nostra chiacchierata io ringrazio di cuore Dario D'Antonio per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Dario, grazie mille. Grazie mille Andrea, buona giornata a tutti.